Grazie Presidente. Gentili colleghi, tutti sappiamo ormai dopo anni di lavoro sul fenomeno migratorio che nessuna missione in mare potrà mai risolvere realmente la problematica, quindi non è una questione di Eranath Formed, non è una questione di Frontex, è una questione storico, politica immensa e oggi sappiamo che gran parte dei migranti che arrivano sui nostri territori arrivano dalla rotta balcanica, non più dalla rotta del Mediterraneo, perché? Perché gli spostamenti, specie dei territori come quelli della Siria in periodo invernale specialmente sono molto più semplici da quella parte. Siamo di fronte però a una situazione veramente paradossale, io mi riferisco ad esempio al mio paese, all'Italia che ha ricevuto recentemente intimazioni da parte dell'Unione Europea di prendere a qualunque costo le impronte digitali dei migranti, nonostante sia chiaro dal diritto internazionale che non si può fare in modo forzoso e in questi giorni al Consiglio europeo invece si è ripreso questo argomento di nuovo e nonostante anche tecnicamente sia impossibile perché i sistemi di rilevamento delle impronte sono così sensibili che basta spostare leggermente il dito per non poter prendere le impronte. In contemporanea è evidente il significato di forzare alcuni paesi come l'Italia a prendere le impronte quali sia realmente, ovvero quello di incastrarlo ancora di più nel meccanismo di Dublino che vede il paese primo ad accogliere la richiesta come quello a dover gestire il migrante. Questo continua in quella tradizione malata tutta purtroppo europea mi viene da dire oggi di voler dare il problema ai soliti paesi e toglierlo da chi invece questo problema ce l'ha in quote molto ridotte. L'Italia non può farsi carico della questione migratoria da sola, lo abbiamo detto tante volte, in quest'aula tante volte avete detto anche voi che è giusto che non sia così, però continuiamo in questa stranezza di un'Europa che ci chiede di identificare forzatamente e dall'altra parte ci punisce perché il diritto internazionale non prevede di prendere le impronte città di a qualunque cosa. Allora dobbiamo un po' capire una cosa fondamentale, non è soltanto l'Europa oggi a dover affrontare il problema, noi con la nostra azione diplomatica e con la nostra capacità di intermediazione dobbiamo porci anche come opinion leader verso quei paesi che sono quelli anche di provenienza dei migranti e quando si parla di hotspot e sento dire dagli esimi colleghi della Turchi che la Turchia non ha nella propria legislazione la possibilità di implementare gli hotspot e vi dico che in Italia non si sa neanche cosa siano gli hotspot, né per legge e neanche come diceva la collega Gross per reale comprensione di cosa realmente siano. Nonostante questo ne abbiamo due, una pozzalla e una portempedople perché crediamo che il fenomeno sia da gestire tutti insieme. E allora la Turchia recentemente si è parlato di uno stanziamento di 3 miliardi di euro per aiutare la Turchia ad affrontare il fenomeno, ha pretese di entrare nell'Unione Europea e allora è benvenuto in Europa, questa è la responsabilità che dovete prendervi e attenzione però, non si risolverà nemmeno con la Turchia che gestisce un tot di migranti, sono già due milioni e non è ormai impegno, si risolverà quando come Unione Europea sceglieremo davvero di smetterla con l'ipocrisia perché gli ultimi report sulla questione terrorismo in Siria e in Iraq dimostrano come l'Europa sia l'artefice di questi flussi migratori enormi perché le armi che transidano sul territorio in mano all'Isis vengono dai nostri continenti, l'Italia è uno dei primi quattro fornitori di armi verso i paesi sauditi che oggi sono la causa delle guerre e del terrorismo in quei territori, la Turchia è stata al centro di forti scandali sul transito di petrolio in cambio di soldi e armi, speriamo che sia soltanto tutto un sommerso, quindi qualcosa di illegale, la Turchia non abbia ruoli diretti in questo caso perché i report della Russia, di cui non sto dicendo che siano assolutamente veritieri, ma ci sono, dicono che c'è la famiglia Erdogan coinvolta e allora iniziamo con un'azione sincera e spontanea di autodenuncia di quello che stiamo facendo perché scopriremo ok, se la smettiamo di vendere armi e se facciamo come diceva un magistrato che non aveva nulla a che vedere con i fenomeni terroristici, Giovanni Falcone, diceva segui i soldi e sconfiggerai la mafia, beh io dico oggi qui segui i soldi, segui gli accordi sotto banco e sconfiggerai il terrorismo e di conseguenza oggi anche gran parte dell'immigrazione e gli hotspot sono soltanto un passaggio, non sono quello che risolverà tutto, anche perché dimentichiamo sempre un punto di vista delle cose che è quello del migrante, il migrante non vuole essere identificato nel paese dove non vuole permanere e allora è inutile che facciamo hotspot a Pozzallo, sono disposti all'ampedusa nato fuoco ai centri di accoglienza, perché sono disposti a tutto, questa è gente che scappa per garantire un futuro a se stessa e alla sua famiglia, se noi pensiamo di incastrarla in un carcere e tenerla in un paese dove non vuole stare, è ovvio che questa gente ci farà la guerra e allora inseriamo in questa risoluzione, sicuramente presentando degli emendamenti, una responsabilità più collettiva del fenomeno e come Consiglio d'Europa dovremmo iniziare finalmente a parlare realmente come abbiamo parlato contro la Russia, come abbiamo parlato contro altri paesi che hanno gravi colpe nella gestione poco democratica interna dei paesi, iniziamo ad attaccare anche noi stessi i paesi che noi riteniamo sviluppati, Francia, Italia, Germania producono e vendono armi, iniziamo ad attaccare noi stessi e con un gesto di umiltà prendiamo realmente il futuro nostro e di quei paesi nelle nostre mani e togliamolo dagli speculatori, dalle lobby e degli armamenti che oggi sono la causa principale dei problemi che abbiamo, grazie.